e tu stai giù da me e fa e non fai la roba ma non sono aperta è mi istiga, è mi istiga, è mi istiga non faccio piacere io piacere non è bo mi sono stato muore perché purtroppo non è piacere io non vogliamo fare su tutti e qui non l'ha tristata e qui faceva per il rosè e qui non lo vogliamo a bo e qui faccio con mia mano là tu sai di solito dai, dai tu si ma non lo so ma vorrei dire che siamo ballando c'è uno che vuoi dire faccio il figlio dove sei e qui l'ha andato non lo so ma tu mi stai da non lo so ma mi vi stai da non lo so ma mi stai da non lo so ma mi stai da non lo so ma mi stai da ma non so ma mi mi spai da non so ma mi stai da ma no io sto direttore ebbè qui mi troppo mezz'ora ma nemmeno questi signori gli atteggiamenti che ho avuto i miei confronti no, guardate lì, faccio lo sentate lì non faccio, allora non faccio voi avete il diritto di inserire al cittadino no, voi non la fa no, mi hai mettato il sole e l'accento il sole i schiafone, i schiafone i schiafone non era vader, non lo sul bello i schiafone ma venissura no, mi sudaba ma venissura no, mi sudaba ma venissura no, mu sudaba va, va, suas patas i non lo spartan i, minuto il potina è perter i in peito, non lo spartan non lo spartan da refinedini ti ero, i我跟你講 non c'è nessuno ma non è mai vissuto e poi stavamo ma non è mai ma non è mai